Ciao a tutti ragazzi e come a saluto sono Frecchi ed oggi sono qua ritornato per questo secondo episodio su Cluster Track Questo fantastico gioco dove bisogna saltare i camion così come si saltavano una volta da piccolini, da piccolini Perché insomma a tutti quanti voi avete sempre da piccoli a saltati i camion, non mi pare neanche giusto Sto provando una nuova inquadratura quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti se vi va bene e se non vi va bene insomma Dall'inizio che fantastico Buttiamoci subito a capofitto perché se non è pagato troppo in chiacchiere E allora oggi World 2, mondo 2 con la Forex Salute Ok, livello 2 di 1, allora sembra molto più, adesso vi ricordo il potenziamento del doppio salto Attenzione c'era una barra di legno, minchia, attenzione questo primo livello non è semplice Anche se abbiamo il doppio salto che ci potrebbe permettere, mamma mia come stavo per prendere quel coso Insomma ci stava permettendo di, mamma mia, oddio, mamma mia cosa stavo facendo ragazzi Stavamo partendo le acrobazie incredibili qui eh, partono le acrobazie incredibili ve lo dico Salta subito quel pezzo di legno, pezzo di legno, voglio insultare qualcuno Dico, ma tu sei un pezzo, beh però, ma puoi curvarmi così eh, ma puoi curvarmi così camion Mamma mia, il camion non va bene Oh, oh, mortacci, ma quel camion mi ha bloccato Penso io, questo camioncino pensa di bloccare a me la via Attenzione, fa un altro salto equilibrio Ok, adesso dobbiamo prevedere la loro curvatura Eh, vabbè però Curvatura Per favore facciamo una bella cosa adesso eh, camioncini Questo è solo il primo livello, io ne devo fare dieci Cioè, non è che ne devo fare una puntata Dici sì, vabbè, ci metterai 8 mila anni Allora, per favore, vedo già il gol Il gol Iiii Oh, mamma mia Che cosa ho fatto ragazzi Cioè, avete visto? Che salto incredibile Allora, vediamo un po' la classifica Uno in quattro secondi Vabbè, vabbè Cioè, vabbè, sì No, vabbè Livello 2 di 2 Attenzione, è incredibile Livello 2 Cosa è qua? Tanto iddio! Cambia la direzione! Bastardissima questa cosa Quindi, occhio Come direbbe qualcuno Cioè, occhio proprio Allora, noi andiamo così Ah, ah, eh, vabbè Cazzo lo la faccio Scusatemi eh Andare così E Ok Ci sono Ci sono Per me è quotatissimo Un altro cambio di Dai No, ce l'avevo fatto Il gol era lì, poi l'ho visto Ok Che recupero Che recupero, signori Che recupero Mamma mia E vabbè E vabbè E vabbè Ma quando uno è forte ragazzi Su questo gioco Proprio io voglio essere Il campione ufficiale Di cluster track In YouTube Italia Moriolo 2-3 Cioè Terzo livello del mondo 2 E secondo me No, sono in aria Stanno tutti cadendo in aria Oddio Come cazzo lo faccio No, è impossibile Come cazzo Allora, devo proprio Fare uno sprint ragazzi Ok Eeeh 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 No A questo punto aspetto Eh Oh Oh Vai 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 Oddio Mamma mia Vi giuro ragazzi Pensavo di non farcela Cioè ragazzi Io per un attimo Ho pensato Un buon ciavaccio E non supero mai Sto livello Bastoni E bastoni Le Vabbè Ci siamo capiti No Ragazzi Io non voglio sapere Che cosa l'ho fatto Perfetto Un camion Mi è venuto addosso Lui sta Bello Certo 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 Sopravvivi a un camion Che ti si spara davanti A 500.000 km orari Però giustamente Se tu vai A sbattere il terreno Tu muori Tu vai a sbattere Con questo muro Bellissimo Io immagino Come saranno Gli altri livelli Gli altri mondi Proprio Cioè Sapete no Questo camion Ok Adesso si Adesso si Per favore Bello 2.5 Attenzione Allora Sembra un po' più lineare Sicuramente adesso Che ho detto Eh già li vedo Già li vedo là Praticamente Cambiano le piattaforme Cioè si stavano muovendo Mi sa che avrò bisogno Di più camion io Ma qua ragazzi Dove per forza Rimaneci sopra Perché se no ok dai Buono Saltiamo noi Perfetto Eh questo era un po' Quello 2.6 Dobbiamo stare attenti A qualsiasi Infrastruttura Attenzione Dai 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 No Mamma mia bellissimo Ok ho capito come si fa Praticamente i camion Adesso qua loro Salteranno E io devo Aggrapparmi a questi E vabbè però Sono stupido pure io Che sono andato di sotto Questo è l'atterraggio Lindo e pulito Ok occhio C'è la doppia sbarra E noi Cioè ci siamo soltanto Bloccati in quel livello È stato un po' Eh Un primo approccio No ma adesso Ci siamo un po' Ci siamo riscaldati Non ci gioco da ieri 2.7 Non mi sembra invece Questo livello un po' Un po' Sì Serio C'erano i camion Che mi sono venuti addosso I miei camion Mi sono venuti addosso Il suo epico Finito poco male Perché cioè Sono venuti addosso Perfetto Ci siamo Ci siamo Ci siamo Dobbiamo mantenere un pochettino La calma Spostiamoci su quest'altro Ok Mi è venuta un'ansia E là c'è una roccia gigante Che blocca ogni eventuale tentativo di fuga da custodiale Ma io avevo 2.8 ragazzi Abbiamo quasi finito Il mondo 2 Della fuga E chissà che cosa ci poi aspetterà nel mondo 3 La custodiale è semplice ragazzi Oddio Oddio Dai cazzo Con il piedino L'ho preso questo Si è proprio sentito il crack del piede Ah vedi È un dolore proprio Allora facciamo questo È un divertimento Poi andare a sbattere contro sto coso Vi prego Vi prego Sì Ok Adesso dobbiamo andare con calma Perché noi ci siamo fatti prendere troppo dalla fretta Prima Ok Porca troia Queste rocce maledette È solo lui che mi può salvare Andiamo su quest'altro camion Andiamo su quest'altro camion Andiamo su quest'altro camion E adesso via col gol Oh Livello 2.9 Completato Proprio il cuore Adesso Mi sta veramente Bene 2.10 Vediamo se sarà Oh mio dio Rocce epiche che cadono verso di noi Rocce finite male ragazzi Oh santo indio Oh mio dio Oh mio dio Oh Ma questi qua sono quelli giusti? Già proprio di no Eh La fuga sta andando molto bene Sono rimasti solo loro due Vi prego Dai 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 Occhio alla roccia Mamma mia Close call Mi ha fatto pure il punteggio Perché c'è stato vicinissimo Of the forest L'achievement che abbiamo sbloccato E abbiamo completato Il secondo mondo ragazzi In 20 secondi Ah se oggi non c'è prismic Che culo Ma che culo Se già ho capito quale sarà il prossimo mondo Cioè winter Che freddo che farà Comunque Tutto questo ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere lasciando un bel mi piace qua sotto in questo video Commentate e fatemi sapere la vostra Iscrivetevi al canale in caso non siete iscritti Perché sono dei video Tari colori da incredibili Missime Fantasticissime Ci vediamo domani con un nuovo video Come sempre Dritto per dritto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti